Poche ore dopo l'ordinanza regionale numero 8 con la quale il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca ha posticipato ma comunque chiuso dopo il 13 marzo le attività mercatali il presidente dell'Anva Ciro Pietro Fesa lancia un ulteriore appello al governatore. Se infatti con lo slittamento della data l'Anva Confesercenti regionale ha scongiurato che molte derrate alimentari già comprate dagli operatori fossero mandate al macero, secondo Pietro Fesa va presa in considerazione anche un'altra richiesta ovvero garantire comunque le attività mercatali che si svolgono in spazi aperti per i generi alimentari. Qui si parla di apertura solo del settore alimentare non dell'intero mercato che già è chiuso per effetto del DPCM. Chiediamo l'apertura del settore alimentare perché serve anche alla stessa cittadinanza per calmirare i prezzi della frutta e della verdura per non fare la fine del primo lockdown dove con la chiusura dei mercati i prezzi schizzarono alle stelle. Quindi a questo nostro appello al presidente della regione che lanciamo ancora una volta si è associata anche l'unione dei consumatori e i grossisti dei mercati ortofrutticoli. Quindi siamo tutti preoccupati da un'eventuale chiusura. Ovviamente noi siamo anche attenti al fatto dell'epidemia che sta correndo come infatti qualche settimana fa nei mercati abbiamo fatto uno screening da dove il risultato che nei mercati non c'erano positivi. Quindi abbiamo dimostrato, fatti alla mano, che le aree mercatali sono quelle più sicure. Ma addirittura si potrebbe, come dire, per evitare gli assembramenti, questa è la paura che si ha per i mercati, visto che in questo momento il settore non alimentare non è aperto nei mercati, si potrebbero, come dire, distanziare i banchi e far lavorare tranquillamente gli operatori della frutta.